Bene, eccoci insieme anche oggi. Come si usa dire ci sono persone che se non esistessero andrebbero inventate. Una di queste per me, Ettore Bonalberti, che non solo ho il piacere ma devo dire ho anche l'onore di ospitare quest'oggi. Onore perché la coerenza delle persone a mio parere va rispettata e premiata. Allora il 18 di gennaio si celebra il secolo dall'appello che lanciò Don Luigi Sturzo ai Liberi e Forti. Quindi l'atto costitutivo della democrazia cristiana. Ma sempre in quella data, vale a dire il 18 di gennaio, si celebrano anche i 25 anni di fine in qualche maniera politica della democrazia cristiana. C'è chi a quella data non si è mai arreso e dopo 25 anni può celebrare la rinascita della DC. Ettore Bonalberti è il vice segretario nazionale della rinata democrazia cristiana. Allora la prima osservazione che uno così d'amblè può fare è che sicuramente si sente la necessità di quella cultura politica ma forse non si sentiva la necessità dell'ennesimo partito. Che risponde? Il deserto della cultura politica italiana è sotto gli occhi di tutti. È andato a votare poco più del 50% dando la maggioranza ad una maggioranza giallo-verde che non era quella per cui gli elettori erano stati chiamati a votare. Siamo in una situazione in cui trionfa il peggior trasformismo politico della storia della Repubblica italiana. Prima la transumanza dei deputati e dei senatori avveniva a Parlamento eletto. Questa volta si è detto per ragioni di necessità, tutte discutibili, la transumanza è avvenuta prima di un intero partito che, eletto in una coalizione, ha deciso di fare un contratto con il partito con cui non era affatto d'accordo. Il risultato è questo governo. Poi abbiamo la grande crisi del Partito Democratico che è ridotto a un irco cervo, una sorta di golem che non sa più qual è la sua identità. In tutto questo il ceto medio italiano è stato sostanzialmente ridotto all'impotenza e in alcuni casi alla distruzione. Non ha più rappresentanza politica. Dobbiamo attendere gli angelus del Papa domenicali perché ci sia qualcuno che parla contro le ingiustizie sociali, contro i pochi che banchettano e i molti che non hanno di che mangiare. Voi capite che in questa situazione c'è l'esigenza di tornare a una cultura politica forte che faccia i conti con la globalizzazione dominante dei poteri finanziari e tutto questo si ritrova scritto solo nelle encicliche della Chiesa. E quindi il ritorno a un'ispirazione democratico cristiana è nella logica delle cose. L'ADC, il Partito Popolare prima di cui hai parlato del centenario, nacque proprio come interpretazione nella realtà dell'uomo, nella città dell'uomo, degli insegnamenti della Rerum Novarum, la grande enciclica di Leone XIII. Oggi noi dobbiamo attuare, ce lo chiede anche la Chiesa Cattolica, ce lo chiede la CEI, ce lo chiede Parolin, ce lo chiedono le grandi voci della Chiesa Cattolica in questo momento. Dobbiamo attuare nella città dell'uomo che cosa? Gli orientamenti pestorali dalla Calizia sin verità te l'ha laudato sì. Qui ha senso tornare a un partito di ispirazione cristiana. Io mi batto da 25 anni dalla fine della democrazia cristiana come fatto politico, avendo avuto la fortuna che l'ADC non fu chiusa giuridicamente in maniera corretta. Martino Azzoli non convocò gli iscritti, non fece il congresso, lo decidemmo in un Consiglio nazionale, la trasformazione da democrazia cristiana a partito popolare. Noi abbiamo ripreso il percorso giuridico e finalmente, grazie anche al Tribunale di Roma che ci ha autorizzato in maniera legittima, abbiamo ricostituito tutti gli organi della democrazia cristiana. Siamo qui pronti per il suo rilancio politico. Ma non era più semplice portare il vostro contributo culturale all'interno di un movimento, di un partito già in essere? Quale? Quale movimento? Noi oggi abbiamo a livello internazionale lo scontro a livello europeo, è la crisi della grande coalizione fra partito popolare europeo e partito socialista, il trionfo dei sovranismi, dei nazionalismi che potrebbe portare alla distruzione dell'Unione Europea, abbiamo l'esigenza di ricontattare la nostra casa comune, che è quella del partito popolare europeo, portando dentro però l'identità democratico cristiana, cioè riportando l'Unione Europea ai valori fondanti dei padri nostri democristiani fondatori, quindi Alcide De Gasperi, Adenauer, Monet, Schumann. Purtroppo l'Unione Europea è stata costruita da un lato per il prevalere della logica radical socialista del manifesto di Ventotene e dall'altra parte, col trionfo della burocrazia e dei poteri finanziari dominanti, la Banca Centrale Europea, tutte le banche nazionali e di fatto i poteri finanziari che comandano il sistema politico dell'Europa e anche dell'Italia. Ad ascoltarla devo dire che si capisce innanzitutto cosa è la cultura politica. Al proposito ricordo anche questo libro che è stato scritto proprio da Ettore Bonalberti, Elezione Europea, la visione dei liberi e forti, che è anche la casa editrice, la Aleph. Voi nei giorni scorsi avete presentato a Roma un patto federativo in vista delle elezioni europee. Leggo però le sigle che lo hanno sottoscritto, la democrazia cristiana, poi c'è il nuovo CDU, vado un po' a caso, Rete Bianca, Costruire Assieme, Partito Cristiano Sociale, Civiltà dell'Amore, Rivoluzione Cristiana. E' per dire, io vengo da un'altra cultura politica, quella del partito repubblicano, e quando si volevano prendere in giro i repubblicani si diceva che facevano i congressi nella cabina del telefono. Cioè a leggere le sigle? Voi ci state pure larghi. Vede, la realtà... Lo dico con simpatica ironia. Sì, la realtà cattolica e popolare italiana è vastissima, è un fiume carsico che ogni tanto riemerge, si articola. Noi ci siamo disarticolati in questi 25 anni, la diaspora è stata un fenomeno drammatico, alcuni hanno cercato di sopravvivere, chi a destra, chi al centro, chi a sinistra. Io sono uno dei pochi che ha scelto fin dall'inizio di chiamarsi democristiano non pentito. Assolutamente. E ho lavorato per tentare di rimettere insieme innanzitutto le forze più direttamente collegate alla storia democratico-cristiana. Il fatto che abbiamo costruito un patto federativo con gli amici dell'onorevole Mario Mauro, popolari per l'Italia, con Gianfranco Rotondi e i suoi amici. Rivoluzione cristiana. Sì, con gli amici di Mario Tassone, nuovo CDU, con tante altre realtà, voglio dire, anche di movimenti e associazioni. In questo senso l'amico Gianni Fontana ha fatto un lavoro preziosissimo, proprio di tentare di raccordarci con tante realtà del mondo cattolico che sentono di essere orfani di una rappresentanza politico-istituzionale. Questo è un fatto molto positivo, così come è importante il rapporto con la rete bianca. C'è tutta una parte di popolari che entrarono nel Partito Democratico, credendo in quella soluzione, nella Margherita prima e poi nel PD, che oggi si ritrovano all'interno di questo che chiamano un irco cervo politico-culturale e stanno invece riprendendo i rapporti con noi. Parlo di Giorgio Merlo, per esempio, ex deputato torinese del PD, ma un vecchio giovane democratico cristiano, oggi un personalità adulta molto importante, ha scritto un recente libro bellissimo su Sandro Fontana e sull'esperienza della sinistra sociale democratico-cristiana. Noi il 18 di gennaio celebreremo sì il centenario dell'appello ai liberi e forti, ma soprattutto cercheremo di dire come lo traduciamo oggi, un nuovo appello ai liberi e forti in questa società del XXI secolo. Lei adesso, citando alcune sigle che hanno sottoscritto il patto federativo, ha fatto il nome di alcuni esponenti politici e ha detto lui e i loro amici. Amici è anche il modo in cui i democristiani si appellano, ma nel caso mi pare anche che sia proprio veramente il termine amico, vale a dire Mario Tassone e i suoi amici, Gianfranco Rotondi e i suoi amici, alla fine di dieci sigle, forse cinquanta persone. Non è cambiata la politica, perché secondo me si è analizzato troppo poco il fenomeno 5 Stelle. Oggettivamente un comico, Beppe Grillo, ha stravolto in vent'anni la scena e il modo di fare politica in Italia. Sì, l'ha stravolto in maniera tale che siamo al di fuori della norma costituzionale. L'articolo 49 della Costituzione recita in maniera molto chiara i partiti sono gli strumenti attraverso i quali i cittadini concorrono con un metodo democratico. Noi siamo arrivati al dunque di un partito, altro che Berlusconi, che comandava ovviamente come comanda Forza Italia dall'esterno, ma con un minimo di partecipazione interna. Qui siamo una società privata, la Casaleggio e un comico Grillo, che comandano a distanza, segliendo i deputati, i senatori con dei criteri, si dice informatici, ovviamente assai poco controllati e controllabili, e addirittura legati dal filo doppio, in termini sia di contribuzione permanente, sia di controllo sistematico. Siamo fuori dalla norma costituzionale. Quello che è drammatico è che tutto questo si accetta. Oggi la grande battaglia che dobbiamo fare è di dar vita a una grande coalizione democratico-popolare alternativa a questo sgoverno degli incompetenti, partendo proprio dalla volontà di applicare l'articolo 49. Qui io non a caso fui tra i promotori del Comitato dei Popolari per il no alla modifica del referendum che voleva Renzi. Noi siamo non per modificarla la Costituzione, noi vogliamo integrarla globalmente la Costituzione. Rileggiamo la Costituzione Repubblicana. L'hanno fatti i nostri padri fondatori, uomini di grandissima cultura, di grandissima moralità, di grandissima trasparenza. Il nostro problema è attuare tutti i principi fondamentali e tutto l'articolato della nostra Costituzione Repubblicana. E in questo inizio d'anno non ci resta che augurare un buon lavoro a Dettore Bonalberti. Ricordiamo Vice-Segretario nazionale della rinata democrazia cristiana. Ricordiamo anche perché lui ci tiene che le iscrizioni sono aperte e comunque per chi ne vuole sapere di più, questo è un utile ausilio. Elezioni europee, la visione dei liberi e forti, scritto proprio dal nostro ospite ed edito da Alephi. Grazie, il resto lo racconteremo durante il corso dell'anno visto che, mi auguro, non manchino gli appuntamenti per continuare a parlare di questa, devo dire, interessante e coraggiosa esperienza politica. Grazie, alla prossima. Grazie. Grazie.